Essere partigiani oggi significa tramandare quello che è stato, raccontare di generazione in generazione un pezzo di storia italiana e diffondere i valori tra gli altri dell'antifascismo e dell'accoglienza a Bari in occasione della festa del tesseramento Ampi presente il presidente Carla Nespolo. Cosa significa oggi essere partigiani? Noi non siamo quelli che abbiamo fatto la resistenza, siamo delle generazioni successive anche se tra noi ancora i partigiani ci sono. Significa portare avanti i loro ideali e i loro valori che erano di pace, di rispetto umano, di civile convivenza, di rispetto di diritti civili e sociali come dice la Costituzione. Noi lo diciamo in una parola sola, noi siamo i partigiani dei partigiani, chi dice ma cosa serve l'Ampi? I partigiani non ci sono più, a parte che ce ne abbiamo ancora tanti e ce li teniamo cari, a cominciare dal nostro presidente merito Carlo Smuraglia che ha 95 anni e gira ancora l'Italia a parlare di Costituzione e di diritti. Ma soprattutto con loro non muore né il loro sacrificio che ci ha dato libertà, democrazia e Costituzione né i loro ideali che noi continuiamo a portare avanti. Sembra che viviamo in un mondo al contrario, sembra che l'abbia vinta, io non ho tanto paura né del razzismo né del risorgente fascismo, temo molto l'indifferenza, temo molto la mancanza o la perdita della memoria e quindi spetta a noi il compito di portare avanti questa memoria. Presente alla serata anche esponenti del mondo politico e dell'associazionismo locale, sindacati e tanti tesserati e neotesserati.